E' arrivato quel momento, vi ho fatto attendere un po', lo so, perdonatemi ma è stato un periodo complesso e impegnativo e volevo dedicare il giusto tempo a questo argomento, non sapendo manco quanto ci metterò, per cui mettetevi comodi perché oggi parlerò a braccio. Allora, Lottito Fabiani Baroni, è stata un'estate complessa, chiunque sostenga il contrario mente sapendo di mentire e noi siamo partiti con dei presupposti terribili, angoscianti, agghiaccianti. Cioè, ragazzi, è stata un'estate in cui lo spettro del ridimensionamento era nel cuore e nella mente di tutti noi. E ripeto, chiunque l'abbia vissuto quel periodo lo sa. Poi è ovvio che il corsetto dei pochi sono tutti bravi, ma noi stiamo parlando di fatti antecedenti al presente di cui parleremo fra poco. A giugno, a luglio, dopo l'addio di Sarri, dopo l'addio di Tudor, era complesso ipotizzare uno scenario come quello che stiamo vivendo oggi. Primi da soli in Europa League, ben piazzati in campionato, squadra che gioca, squadra che gira, chi l'avrebbe potuto dire? Nessuno. Quindi oggi io, il... chiedete scusa, che tanto si sente, si legge in giro, è un oggetto che deve chiedere scusa... No, nessuno deve chiedere scusa a nessuno dal mio punto di vista, perché credo che nessuno abbia parlato con l'intento di danneggiare alcunché, specialmente la Lazio. No? Credo che nessuno fra noi abbia mai paventato lo spettro del ridimensionamento perché volesse fare un danno alla Lazio o ai Laziali. Io sicuramente no, ma credo nessuno che si definisca Laziale potrebbe averlo fatto. Abbiamo tutti parlato, spinti e sospinti dall'angoscia, dalla preoccupazione, dal terrore di ritornare in situazioni che nessuno vorrebbe rivivere, no? E c'erano tutti gli elementi affinché questo potesse verificarsi. Perdi un allenatore titolato come Sarri, perdi un allenatore di prospettiva come Tudor, per quanto poi non abbia, che io sappia, che ha trovato altre collocazioni, e ti ritrovi con Baroni che, guardando il suo curriculum, non vantava chissà quali presupposti. Sì, un bel gioco per chiunque l'avesse seguito assiduamente, ma per i più, Baroni era colui che in vent'anni di lavoro non era riuscito a vivere alcun tipo di situazione di vertice. E dunque, sulla carta, non sembrava l'allenatore giusto per affrontare un momento complicato. Piazza molto agitata, una squadra che aveva perso i punti di riferimento. I presupposti non erano quelli migliori, no? Quindi, sulla base di quei presupposti, ci siamo tutti legittimamente preoccupati. E io non rimangio nulla di ciò che ho detto, perché l'ho detto convinto di ciò che stavo dicendo. Perché non ho la palla di vetro. Non ho doti divinatori e quindi guardo, vedo, dico cavolo, prendiamo un allenatore che non ha mai fatto una Coppa Europea. Potrà andare bene? Sì, però i presupposti fanno pensare di no. Poi, allora è arrivato, ha fatto quello che ha fatto, ora ne parliamo. Però, all'epoca, io voglio sapere chi è che avrebbe potuto prevedere quello che abbiamo poi effettivamente vissuto. Credo nessuno. Con piena condizione di causa e nessun tipo di ottimismo a condizionare le riflessioni. Ragazzi, penso che manco la società avrebbe potuto immaginare uno scenario simile, no? Quindi, rimettiamo tutto su un piano di fatti e previsioni concrete, che erano, ripeto, legittime. Ciò detto, ciò detto, andare a prendere i baroni è stato, vogliamo definirlo un colpo di genio? Vogliamo definirlo un colpo di fortuna? Vogliamo definirlo un colpo... Chiamatelo come vi pare. Però, quel che conta è che siamo stati fortunati. Gli astri si sono allineati per bravura, per intuito, per fortuna. Quello che vi pare è andata bene, per adesso. E io sono contentissimo di poter dire che bello che a me sbagliavo. Che bello che un allenatore che non ha mai giocato alla Coppa Europea sia arrivato e se si è messo in tasca tre quarti degli allenatori che giocano l'Europa League facendo punteggio pieno come unica squadra al momento della competizione. Ma chi l'avrebbe potuto immaginare? Nessuno. Nessuno. Manco la società, ripeto. Sono fermamente convinto che sia stato preso, chiaramente, dopo averlo valutato, studiato, considerato, soprattutto dal punto di vista anche umano. Ma credo sia andato ben oltre le più rosee aspettative di chiunque. E meno male. Perché Baroni è arrivato nella diffidenza generale zitto, tranquillo, non si è messo lì a far fenomeno, non si è messo ad andare... Non ha detto niente. Ha detto mi metto a lavorare. Che è quello che dovrebbero far tutti in qualsiasi contesto lavorativo. Lui lo ha fatto in maniera egregia. Quindi io non è che chiedo scusa per aver provato una diffidenza all'epoca. Ma dico grazie adesso. Perché ci ha dimostrato che con il duro lavoro si possono fare grandi cose. È una lezione che dovrebbe valere un po' per tutti quanti noi, e per chiunque guardi la Lazio da adesso. Il duro lavoro paga. E Baroni ne ha un perfetto esempio. Un Baroni che però, peraltro, permettetemi, perché a me in queste settimane mi è stato messo un po' in bocca qualcosa che io non ho mai detto. Io Baroni non l'ho mai... Cioè, trovate un video in cui io me l'ho sorpresa con Baroni. Io ero diffidente, in fondo di Baroni. Molto diffidente. Questo non lo nego. Ma gli ho sempre augurato il meglio per sé e per noi. Riconoscendo, peraltro, un valore umano che si percepiva da subito, nelle sue parole, nei suoi modi, nel suo stile, così delicato, così umile, così sensibile. Un uomo che attraverso queste caratteristiche ha saputo far rendere alla grandissima una squadra che sembrava senza particolari ambizioni. Quindi questo va detto e ringraziamo il cielo che Baroni sia arrivato, perché è effettivamente, come si suol dire, l'uomo giusto nel momento giusto. Ok? Quindi questo lo diciamo. Poi, tutto questo ci può portare a dire, dobbiamo chiedere scusa alla società. No! Ma mi rifiuto nella maniera più categorica. Io posso dire grazie alla società oggi. Ma io quello, il malessere e l'insufferenza che ho manifestato a più riprese, non l'ho manifestata perché mi sta antipatico qualcuno, l'ho manifestata perché c'erano degli elementi per manifestare quel disagio. E nel mio essere una persona estremamente comunicativa, ma rispettosa di tutti, ho manifestato un malessere in maniera chiara, dicendolo, siamo in democrazia e la democrazia vale per tutti, per cui se io ho l'insufferenza dico che sono insofferente. Ma io devo chiedere scusa se arreco un danno, non se esprimo un parere. Quindi iniziamo anche a considerare le cose da un punto di vista corretto linguisticamente. Quindi io oggi posso dire, meno male che hanno fatto un bel lavoro. Grazie per il bel lavoro che avete fatto. Grazie. No, scusa. Perché io, nel senso, ma io mi chiedo, aggiungo una riflessione. Ma non sarebbe stato tutto più semplice, più bello, più godibile, con molto meno stress per tutte le parti coinvolte, se quest'estate ci fossero stati dei discorsi un po' diversi, e un po' più di apertura verso una tifoseria, che di certo non si mette, non si mette a manifestare insofferenza e malessere per sport o divertimento. Perché pure sta cosa che noi siamo quelli che, ah, perché fanno, fanno le, le... cioè, si lamentano per nulla. Ma ragazzi, ma io ripeto, tu ti ritrovi dopo un ciclo abbastanza lungo, privato dei tuoi giocatori più rappresentativi, con un mercato fatto di speranze scommesse e investimenti ipotetici, e io devo essere entusiasta? No, non posso essere entusiasta, perché è il mio diritto da tifoso non essere entusiasta. Ma, anche lì, parliamo del mercato. Allora, il mercato di quest'estate, sulla carta non era particolarmente entusiasmante, perché hanno preso un sacco di giocatori di prospettiva, ma, appunto, da formare. Da lì la scelta di Baroni, l'uomo giusto per eventualmente formarli. Un uomo che ha saputo prendere ciò che di buono già c'era e sta riuscendo, attraverso il duro lavoro, a sviluppare quel che di nuovo è arrivato. Ma, anche lì, non è che adesso, siccome siamo primi in classifica in Europa League, in un ottimo posizionamento in campionato, allora, ah, il più grande mercato della storia. è stato un mercato fatto di intuizioni positive, vedasi in uno Tavares, ma bisogna valutare l'insieme del mercato. In questo mercato vorrei fare, vorrei prendere due esempi che sostengono il mio punto di vista in questo caso, che credo siano abbastanza condivisibili, no? L'uno Tavares e Castrovilli. Due giocatori che rappresentano hanno lo stesso genere di investimento, tecnicamente indiscutibili, di oggettivo valore, ma limitati da una condizione fisica non ottimale. Quindi, con un punto interrogativo, a condizionarne il prezzo d'acquisto, perché uno ti è arrivato svincolato, l'altro l'hai pagato quattro soldi. Proprio in virtù di una condizione non, vogliamo dire, non particolarmente rassicurante, perché se no, l'uno Tavares a quel pezzo non lo prendi mai. Uno ti ha detto benissimo, per ora, perché l'uno Tavares ha ritrovato la condizione atletica, sta facendo un campionato incredibile, ha conquistato la nazionale, assist a profusione, eccetera, cioè idolo della tefoseria, con pieno merito. Dall'altra parte, un Castrovilli che non ha ancora trovato la condizione e che addirittura si è rifatto male. Che vuol dire? Che su uno Tavares sono stati bravi e che su Castrovilli sono stati non bravi? Vuol dire che la Lazio sta facendo mercato compatibilmente con ciò di cui dispone, cioè risorse limitate, e che questo tipo di strategia a volte ti dice bene e a volte ti dice male. Perché non è da mettersi lì a dire ah, il genio del mercato. Fabiani ha fatto un buon lavoro alla luce dei fatti. Bisogna riconoscerlo, bisogna ringraziarlo per il lavoro che ha fatto, però lo stesso Fabiani che durante quest'estate a volte ci ha dato segnali contraddittori. Perché io ripeto, parto dal presupposto che mi sento di che Ames Rodriguez è vecchio, ma lasciamo perdere, sarebbe stato bello vederlo o non vederlo, eccetera. Io parlo di dichiarazioni. Ames Rodriguez è troppo vecchio per il progetto, passano tre settimane, arriva Gigo, che mi pare sia più vecchio da Ames Rodriguez. Che non è Ames Rodriguez o Gigo, parlo di comunicazione. Io nella vita faccio quello da vent'anni, per cui è un qualcosa a cui sono particolarmente attento, la comunicazione. Trovo che la Lazio abbia come principale problema, come fonte di tutto quello che poi rende a volte il clima un po' più teso di quanto non potrebbe essere, la comunicazione. La comunicazione. che crea il germe del dubbio, della polemica, anche dove potrebbe evitare, cioè dove lo si potrebbe evitare. Se quest'estate ci avessero fatto un discorso un po' più rilassato e chiaro sulla scelta di Baroni, su un certo tipo di mercato, avremmo reagito tutti in maniera diversa. Perché nessuno si è messo a serie davanti a un microfono e ci ha spiegato la scelta di Baroni, se era così consapevole di questa scelta? Senza di ho scelto perché è più bravo, mi hanno fatto i complimenti, spiegami perché hai preso Baroni, fammelo capire. Il presidente della scuola di calcio è un papà per la tifoseria, teoricamente. Il ruolo è quello, il patriarca della squadra e se non si comporta come tale è normale che i suoi numerosissimi figli possano accogliere in maniera contraddittoria quel che poi gli arriva, dal mio punto di vista. Il vero problema della Lazio da anni è sempre quello, la comunicazione. Una comunicazione che dovrebbe migliorare perché attraverso quella passano anche tante altre cose e questa è una cosa che la società non riesce a entrare in testa e purtroppo Fabiani per quanto abbia dimostrato di essere capace in questa sessione di mercato non lo trovo un abilissimo comunicatore, trovo che abbia ampi margini di miglioramento in termini di comunicazione e forse la Lazio tutta dovrebbe rivolgersi a degli esperti di comunicazione di altissimo profilo che possano curare i suoi interessi e limitare le rigidità che a volte sono evidenti e che rappresentano l'origine di tante polemiche. Ho reso l'idea? Questo è il punto. Ora, io sono contentissimo del campionato della Lazio, sono felicissimo, entusiasta, ma non riesco a vivere tutto questo momento meraviglioso chiedendo scusa de che? Ragazzi, abbiamo visto anni fatti di tanti alti e bassi, anni fatti di tante speranze a volte disattese e io mi auguro con tutto il cuore che questo gennaio sia l'inizio di qualcosa di diverso. Lo diciamo sempre, non succede mai. Speriamo che questa volta possa succedere perché noi siamo arrivati con un Baroni che sembrava per certi versi veniva dipinto da tanti come un allenatore di basso profilo preso per non creare problemi alla società. Baroni ha dimostrato di avere un talento evidente e spero che quel talento venga coltivato e venga in qualche modo anche riconosciuto affinché gli si diano gli strumenti per esprimere quel talento al massimo. Che cazzarola vuol dire questo discorso che ho appena fatto? Che a gennaio gli devi comprare qualcuno. La rendiamo molto più romana. Cioè sta facendo le nozze con i proverbiali fichi secchi. È riuscito a far giocare tutti al migliore dei modi. È riuscito a tirar fuori a togliere dieci anni a Pedro. Non si sa bene come ma gli ha tolto dieci anni. adesso la squadra è molto 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 corta e da gennaio in poi potrebbero aprirsi scenari inattesi e imprevisti credo credo pregando l'altissimo che sia il momento di dimostrare coerenza con le proprie scelte. Hai voluto prendere Baroni? Allenatore di grande prospettiva? mettono in connessione di lavorare al meglio perché se no se ogni volta che si creano dei margini di crescita tecnico finanziario non vengono mai sfruttati è normale che poi buona parte della tifoseria non solo nutra il dubbio che certe fortune siano frutto della fortuna più che della pianificazione perché se c'è pianificazione ci sono diversi passaggi che vanno seguiti ogni qual volta si raggiunge un punto si punta al successivo se ogni volta che si raggiunge un punto cese ferma vuol dire che il progetto non c'è io su questo spesso mi trovo a contestare l'operato societario non per chi abbia voglia di polemizzare ma perché da tifoso amante di questi colori in maniera viscerale mi auguro sempre il meglio per la Lazio e i suoi tifosi poi per la società e chi ne fa parte anche come parte di tutto un insieme ma a me interessa la Lazio e i laziali prima di tutto quindi se si vuole dare l'impressione di avere veramente una chiarezza una lungimiranza un progetto chiaro in testa questo progetto dovrà prendere forma prima o poi non può essere portato avanti a botte di fidatevi 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 cioè il messaggio di fondo spesso e volentieri è stato ed è tuttora fidate 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 io non mi fido manco della famiglia mia figuriamoci se mi fido di qualche perfetto sconosciuto per quanto mi riguarda e credo che tanti la pensino come me in questo senso quindi benvenga il riconoscere il valore del lavoro quando dà dei buoni frutti a patto che quel lavoro venga portato avanti e non che ogni qualvolta si raggiunge un apparente traguardo che si tratti di un giocatore che rende bene di un allenatore che riesce a far giocare bene la squadra ci sei ferma si deve fare un passettino in più il passettino in più è quello che fa la differenza è quello che dà il via a un processo di crescita effettivo che ti porta a rimanere lì per qualche anno io non voglio accontentarmi di una Lazio che ti fa l'anno della vita in cui in Europa League fa mor panico in campionato stiamo lì poi finisce la stagione e l'anno dopo te li trovi a uscire a primo turno da Coppa Europea a centrare il sesto posto a fatica il progetto si deve sostenere non si sostiene da solo il progetto va alimentato come un fuoco se non gli emetti la legna al camino se spegne tocca mette la legna ce la mettiamo sta legna a gennaio domanda che rimarrà senza risposta fin quando il mercato non si aprirà ragazzi quindi ricapitolando Dio benedica Baroni la quattro colori e il suo dolce vita bravo Fabiani che ha fatto un mercato interessante con poche risorse è riuscito a compensare gli addi con giocatori di un certo tipo ovviamente poi quando sarà parleremo anche della squadra di quello che sono riusciti a fare di chi sta rendendo meglio o peggio ma non è questo il momento perché siamo ancora in una fase abbastanza preliminare voglio vedere come andrà novembre soprattutto dicembre però ecco come primo momento di bilanci credo sia opportuno riconoscere l'assoluto straordinario valore del nostro allenatore sia umano soprattutto umano ma anche tecnico tattico perché dopo le prime due partite in cui ci sembrava un po' incerto ha ritrovato una stabilità una lucidità una lungimiranza una fantasia una capacità di adattarsi straordinaria bisogna riconoscere che la società ha fatto bene quel che doveva fare per rilanciare il progetto perché è stato fatto un mercato intelligente ci ha detto anche bene in qualche caso Vedasi Nuno Tavares in qualche caso ci ha detto meno bene per il momento Vedasi appunto Castrovilli Poraccia che non si riesce a trovare pace con quel ginocchio e brava la società che ha messo Fabiani nella condizione di lavorare in un certo modo che ha messo Baroni nella condizione di lavorare in un certo modo ma che adesso quello stesso Baroni lo deve ascoltare e Fabiani deve ascoltare lo stesso Baroni a sua volta non si può dire che ah vedi bravi no quando si dice bravi è lì che inizia il bello cerchiamo di sfruttare questo momento di inerzia per continuare così ecco questa è la mia speranza ragazzi quanto ho parlato 20 minuti di scarto dai ce lo può stare ragazzi sempre forza Lazio poi ovviamente avremo tempo e modo di parlare però ci tenevo a fare alcune precitazioni per un istante intellettuale per dare una coerenza a certe cose che dico spero di essere stato chiaro nell'esposizione me lo auguro affinché non segreano ulteriori fraintendimenti vediamoli così ragazzi un abbraccio sempre forza Lazio e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao Grazie a tutti.